Ovviamente i presupposti sono diversi, lo scorso anno a Trapani non è riuscito a dare quella sterzata giusta alla sua avventura fino a dicembre. Un allenatore che con la maglia del Napoli giocò qui a Catania è particolare curioso. Sulla panchia del Catania in quella stagione in B c'era Pellegrino che adesso è direttore della formazione etnea. Torniamo in cronaca, calcio di punizione, tre uomini in barriera per Forte, sul punto di battuta c'è Russotto, il suo tentativo, palla deviata alla rete! Si sblocca subito il parziale dopo due minuti, Andrea Russotto da oltre 35 metri, conclusione deviata, Forte ha cercato con un colpo di Reni di arrivare sul pallone. Imprendibile per l'estremo difensione dell'Avellino e dunque subito la risposta del Catania, il gol di Andrea Russotto. Gli abbracci, le esultanze proprio insieme a Francesco Baldini, conclusione potente da parte di Russotto, la deviazione di nuovo in barriera.